E' cambiata la musica e non hanno niente di scontato, anche perché noi ogni anno all'Europa diamo 6 miliardi di Euro. Quindi rivedrete finanziamenti italiani e europea? Non vorremmo essere costretti a farlo, ma non escludiamo nulla. Ieri Toninelli ha puntato molto sugli hotspot, mentre lei è sembrato più tiepido durante la conferenza stampa con gli austriaci. La convince o no questa soluzione? Sì, allestire dei centri di accoglienza, di protezione e di identificazione fuori dal frontiere italiano ed europeo è fondamentale. Grazie per la visione!